... Bellissime prestazioni, è arrivato anche il gol quest'oggi. Sì, lo aspettavo da tanto tempo questo gol e sono felice anche per la vittoria che oggi abbiamo fatto perché la Iesina non aveva mai perso in campionato e oggi è la prima sconfitta contro noi. E poi il primo gol che non è solo tuo decisivo, prima era arrivato sempre in partite vinte 1-0, quest'oggi di gol ce ne sono stati tanti, ma qual è la lettura? Sei stato bravo ad aprire questa danza per il gol, poi la Samb dove è stata più brava della Iesina secondo te? Li prestavamo alti, andavamo a prenderli alti e recuperavamo palla sulla tre quarti loro e dopo da lì è tutto più facile, anche con gli attaccanti nostri le giocate sono più facili. Si può dire che dopo la partita con l'Astre a questa Samb si vede che ha un carattere diverso, ha più qualità proprio perché dimostra di avere una maggior fiducia nei propri mezzi, riesce a giocare con più tranquillità? Sì, infatti abbiamo acquisito la fiducia nei nostri mezzi e adesso con tutto l'entusiasmo dobbiamo sempre migliorare ogni domenica e diamo sempre il meglio ogni domenica, sperando sempre di vincere. E ora è arrivata anche la testa della classifica? Eh sì, però non ho visto gli altri partiti, gli altri risultati, però noi pensiamo domenica per domenica, ci concentriamo partita per partita, ma pensiamo a domenica prossima. Insomma, ora la testa è solo sul cenale. Sì. Grazie Cardone. Grazie a tutti. Grazie a tutti